Mister Bonati, allora mister un commento su questa partita, primi 30 minuti a fare dell'Aquila, poi siete usciti, magari anche il gol di Petra vi ha dato più animo nel secondo tempo, tutta altra partita. Sì, è stata una partita bellissima per noi, un livello di partita che abbiamo sofferto all'inizio perché il campo nostro non è vero che sfavorisce l'Aquila, perché l'Aquila ha proprietà tecniche, ha fraseggio e più il campo è stretto e la palla sta a terra e più l'Aquila ha potuto imprimere il suo ritmo, fatto di fraseggi, diciamo che retaggio dell'allenatore vecchio che aveva costruito una grande squadra e si vede la sua mano ancora oggi. Hanno preso forse un po' di pragmatismo dalla nuova conduzione tecnica e mettendo insieme le due cose, ovviamente se ti fanno i primi 20 minuti così noi abbiamo fatto al massimo, cioè prendere solo due gol è stato fare il massimo perché poi uno è stato un erogol e un altro è stato un colpo importante di Miciche. Il gol di Petra è stato meritato perché avevamo già costruito qualcosa che non era venuto fuori, per qualche fuorigioco eravamo stati disattenti su alcune giocate provate in settimana, abbiamo finalizzato giustamente e poi il secondo tempo è normale che sia un'altra partita perché l'Aquila la partita poi quando subisce un gol sul 2-0 credi di non poter arrivare, noi forse lì potevamo addirittura fare meglio, forse la nostra crescita poteva passare da lì perché ci siamo fatti ingolosire dalla loro indolenza difensiva in alcuni ripiegamenti, non è che avevano tutta questa voglia di rincorrere il secondo tempo, però tenevano una linea un po' troppo alta, palla scoperta e noi là dovevamo avere più qualità, più freddezza e più lucidità, però ovviamente stiamo parlando di una squadra che anche oggi si è superata e ha tenuto testa a una squadra che costa 20 volte la nostra, sono orgoglioso di quello che ho visto, sono orgoglioso dei ragazzi e spero che facciano il percorso più bello della loro vita perché tutto questo tempo con loro sicuramente non andrà perso. In cronaca con Valdesse forse abbiamo profetizzato, se il Delfino riuscirà ad accendersi soprattutto con gli uomini chiave, Tine Mori, Marzucco, il stesso Gobbo, Falco, riuscirà magari a rieprire la partita o a arrivarci vicino, è andata così? Sì sì, però voglio dire, dico sempre che questo campo è un campo piccolo e bisogna saper difendere prima che attaccare, noi abbiamo difeso alla grande, con due linee abbiamo scelto di recuperare il pallone o su Zanon quando si alzava sui nostri mediani o sugli incroci lì riducendo lo spazio tra la nostra linea difensiva e la nostra linea centrocampisti e poi abbiamo avuto una personalità, un coraggio quando abbiamo recuperato la palla bassa di non buttarla ma di fraseggiare un metro, siamo usciti a palla a terra, siamo usciti con Petra, siamo usciti con un fallo e io sinceramente ho visto una grande partita e anche per merito dell'Aquila ovviamente, è stata una partita bellissima che mi porterò nel cuore della mia esperienza di questi anni. Parlavi di decisioni discutibili del direttore di gara, a cosa ha soprattutto fai riferimento forse al contatto anche tra Molenda ma anche con Marzucca all'interno dell'area ma anche all'esterno con Falco quando ha incrociato la traiettoria con Ricci magari lì potrebbe arrivare una sanzione? L'arbitro è stato un arbitro di personalità però è stato scarso negli episodi, è stato molto molto di personalità e dava una bella immagine di sé e poi gli episodi più clamorosi non ha avuto questa personalità non ha avuto la personalità perché il fallo sul Falco ha fatto fin di non vederlo ha capito che forse doveva addirittura mandarlo fuori il giocatore e non ha fischiato credo che a parte invertita il fallo sarebbe stato fischiato e ci manca sempre qualcosa però tanto è inutile parlarne, se non mi avessi fatto la domanda non ho fatto nemmeno l'accenno quindi però sono errori gravi che condizionano il risultato di una partita.